Buongiorno a tutti, io mi chiamo Roberta Caldarini, ho 40 anni, vivo a Roma, di professione faccio la hostess e come hobby amo la pittura e ovviamente la cucina. Oggi vi presenterò una ricetta molto gustosa e molto estiva, a base di grana pagano. Io ho scelto quello stagionato di 24 mesi, l'ho tagliato come potete ben vedere a tocchettini. Dopodiché, andrò un po' veloce perché 90 secondi sono pochissimi, ho tagliato a fettino una melanzana di uno spessore di circa mezzo centimetro e ho disposto le melanzane su una teglia. Poi ho preso dei pomodorini freschi, li ho tagliati a metà in questa maniera e li ho disposti sopra ogni melanzana. Ho infornato il tutto a 150 gradi a forno caldo e lasciato cuocere per circa 20 minuti. Dopo 20 minuti spegnete il forno, tirate fuori la teglia e mettete su ogni melanzana i tocchettini di grana padano. Rinfornate tutto, lasciate che per 10 minuti il grana padano si scioglia sopra le melanzane e ne uscirà il nostro fantastico piatto estivo, originale e direi anche artistico. Come potete ben vedere, ho sparso solo un tiro d'olio a crudo e un po' di sale e ho aggiunto delle foglierine di basilico. Noi il grana padano ce lo mangiamo così. Ciao! Ciao!